Siamo nella gioielleria Piamariani, dove ci racconteranno appunto la storia della nascita di questo progetto. Allora, questo progetto di Gabriel, da me disegnato ed è una linea di gioielli che qui proponiamo, e con l'incontro di Mimma è nata questa cuccia che ad ali aperte penso che accoglie tutti quanti qua insieme per una bellissima serata e un ottimo incontro. C'è l'ispirazione per questo progetto? Da un gioiello di Piamariani e di Gabriel. Che materiali sono stati usati? È un ebano che è un legno molto pregiato con un legno curvato. E ha un nome, questa cuccia? Gabriel, appunto. Sì, penso che si chiamerà proprio Gabriel perché l'ispirazione nasce proprio da questa stella dove è bastato veramente mettere una testa e due ali per farla diventare poi un angelo che è anche una buona stella per tutti noi e quindi anche per i nostri cuccioli e tutto il resto. Grazie. 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 Grazie.